segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te risponda di questo non anche lo jemen poi facciamo una puntata sullo jemen ma qua l'ucraina ma non vuole la resistenza ucraina questo è il problema io non tutte le altre esistenze vanno bene tranno quella io sono qui con tante altre persone penso a tanti nobel per la pace a tante persone che dicono in questa situazione bisogna mettere in campo di tutto una interposizione l'onu che è sparito non dare spazio alla nato non confidare solo nelle armi abbiamo visto cosa succede seppe mastruzzo non amicali